Federico Buffa, Olimpiadi di Londra, 1908. Mi chiedo se il tiro alla fune... Certo, certo, certo. No, il tiro alla fune è un altro dei grandi oggetti di controversia tra gli americani e gli inglesi. Ah, benissimo. Però noi ci siamo lasciati sul problema politico. Per esempio, gli irlandesi dove li mettiamo? Gli inglesi dicono, voi non esistete, voi siete britannici e quindi sotto di noi. Come forse avete notato quando avete visto Un Uomo Tranquillo con John Wayne e film comparabili, gli irlandesi, sono grossi ragazzi, hanno molto cuore e carattere e un destro che fulmina. E quindi quando si arrabbiano, si arrabbiano davvero. E allora che cosa fanno molti di questi? Vanno negli Stati Uniti, vengono arruolati come poliziotti e poi tornano alle Olimpiadi da americani. Alcuni di questi che hanno vinto alle Olimpiadi di Londra diventeranno anche ispettori della polizia di New York e stravincono tutte le gare di lancio sostanzialmente. Perché recuperano le antiche tradizioni celtiche tipo del gioco del Wessel, ovvero sia una palla di pietra di non so quanti chili che tu tiri a un altro che la deve prendere al volo. Un gioco che può venire in mente più o meno solo a quelle popolazioni. Ma questi sono i loro eredi. E infatti questo gruppo di atleti straordinari sbaraglia il campo nei lanci da americani. Gli americani fanno notare all'inglese. I vostri irlandesi sono dei fuoriclasse. La faccenda si complica totalmente nella finale dei 400. C'è un britannico che si chiama Wyndham Halswell che ha vinto la gara grazie la corsa da solo. Come da solo? Sì, i 400 delle Olimpiadi di Londra sono state corse esclusivamente da un corridore, da un atleta. La prima finale che si era corso il 21 luglio aveva avuto un vincitore, un americano, John Carpenter, squalificato per ostruzione. Ovvero sia, il pubblico inglese faceva il tifo per gli inglesi facendo anche quello internazionalista. Qual è il problema? Che Carpenter secondo i giunici aveva fatto ostruzione. Vi ricordo che all'epoca non c'erano corsie, tutti correvano assieme. Quindi sostanzialmente se volevo fare dell'ostruzione e Carpenter la fece, potevo in qualche modo fare del lavoro fisico contro il mio avversario. A questo punto, visto che Carpenter fu squalificato, nella ripetizione Robbins e Taylor, segnatevi questo nome, John Taylor, disse allora noi non corriamo. E a questo punto rimase solo Holtzwell che vinse ovviamente, tra l'altro con un signor tempo. A questo punto bisognava mettersi d'accordo. Quale criterio di ostruzione usiamo? Quello degli inglesi o quello degli americani? Da lì in poi, nelle Olimpiadi, fino a che non si andrà alla corsia, si usò quello degli inglesi. La situazione si complica in tutte le manifestazioni perché si detestano questi qua, ovviamente. Tra l'altro, John Taylor, che è uno dei tre che non corsero alla finale, diventa il primo afroamericano a vincere una medaglia d'oro. Abbiamo visto un haitiano che la vince con i francesi, ma questo è il primo afroamericano, e lo fa in una singolare gara di stasvetta, che prevedeva due frazioni di 200, una di 400 e l'ultima di 800. Colpi che si sentono e vedono solo in quel tipo di Olimpiadi. Lui corse la frazione dei 400 metri. Era uno studente modello, tra l'altro, laureato all'Università di Pennsylvania, e praticamente alle Olimpiadi andavano solo quelli di Syracuse, Howard e Pennsylvania, e tenetela presente questa per l'Olimpiadi del 1912, ma non poteva festeggiare a lungo, perché tornato a casa morì di tifo a 26 anni. Però lui resterà per sempre nella storia olimpica come il primo afroamericano a vincere un oro. Allora, abbiamo centrato queste Olimpiadi come quella del grande duello ideologico-sportivo tra gli americani e gli inglesi. Abbiamo visto dove in molti campi si è anche manifestato. Gli inglesi ci tengono che comunque alcuni sport ci siano per forza, tipo la pallacorda, ovvero sia le jeu de pomme originario dei francesi. Lo vince un americano, figlio di un famoso finanziere dell'epoca, Gold. Abbiamo la gara di tiro alla fune, dove gli americani mandano una squadra, più che altro composta da quelli del lancio ai martelli, quelli lì, che però perde perché le squadre dei pompieri e delle polizie di Liverpool e Londra possono gareggiare con le scarpe chiodate, mentre questi qua si presentavano le scarpe da passeggio. E c'è la gabola. E c'è la gabola. Giudizio imparziale, sono messo in virgolette il giudizio inglese, sì, vale perché ce le hanno durante le loro manifestazioni tradizionali, cioè quando lavorano, quindi vale. Gli americani si guardano a te. Ma che cosa stiamo dicendo? Esatto. Eh, dai. Siamo felici di essercene andati qualche centinaia di anni fa e non si presentano alle gare successive, quindi ovviamente la polizia di Liverpool perde contro la polizia di Londra, vabbè, pazienza. Abbiamo visto le gare di nuoto? No, non le abbiamo viste, ma qui abbiamo una grande riforma, ovvero sia, fino adesso si era potuto gareggiare. Mare, Atene, sì, mi ricordo anche le barche, le barche, fiume, senna, lago artificiale, St. Louis. Andiamo in piscina? Eh no, qua si rischiava il Tamigi, eh, l'immaccioso. Gli inglesi hanno l'idea geniale di far correre per la prima volta in piscina. Sì, ma non sarà, ma essendo una irriverente retrospettiva, figurati se ti farà una piscina regolare. La piscina era la metà e il doppio di quella di adesso, ovvero sia, era un canale di 100 metri, ma per quattro corsie soltanto. Devo dire che ci sarebbe un atleta di cui mi piacerebbe parlare, perché c'è una medaglia italiana un po' particolare, che riguarda un certo Enrico Porro. Questo qua era un teppista di strada di Porta Cicca, che è la versione milanese di Porta Cicinese. La madre, disperata perché si è una risa al giorno, lo mette come mozza su una nave che lo mandi a Buenos Aires, cioè lo imbarca a Genova. Bene. Questo però torna, finisce in altrettanta risa di strada, finché qualcuno gli dice ma perché non viene a fare un po' di greco-romana, che era come dire, al tempo, quello che serviva per tenere buoni, oltre al pugilato, i ragazzi dell'epoca. Questo diventa talmente bravo che vincerà loro. Verrà premiato, in grande sfarzo, da Vittorio Emanuele III. Felicissimo perché c'era un alto come lui al momento in cui gli dette un'altra medaglia.